La data dura, eh, Mace? Ma che cosa l'hai capito? Allora, una 357 magnum, una parrucca nera... Non fare commenti. Faccio questo lavoro da 18 anni, ho visto ben altro. Guarda che razza di sventola! Certo, quelle mutandine non sono grandi. Non c'era la tua misura, eh? Come ti chiami, ragazzo? García, fate coppia? Sì. Fa un favore a te stesso. Non diventare come lui. È un buon consiglio. Vero. Ehi, Mace! Quell'arancione ti sta una favola. Dio, poi, hai una penna in tasca o sei contento di vedermi? E sta zitto. Non ho parlato.